Un influencer 64enne di origini abruzzesi dovrà rispondere dell'accusa di truffa e insolvenza fraudolenta. Il 64enne avrebbe ordinato 72 mila rosticini con la scusa di promuovere una delle delizie regionali in Svizzera, dove risiede da anni senza mai pagare il debito da 27 mila euro maturato nei confronti di un'azienda pescarese. A raccogliere la denuncia del produttore raggirato sono stati i carabinieri della stazione di Civitella Casanova, comune della provincia di Pescara, i quali si sono occupati di segnalare alla Procura della Repubblica il responsabile, facendo scattare le indagini e quindi i provvedimenti nei suoi confronti, anche se degli arrosticini non c'era ovviamente più alcuna traccia. Il truffatore è un imprenditore di origini abruzzesi, residente nel cantone di Berna, noto influencer. L'uomo ha pensato bene di sfruttare la sua visibilità per cercare di convincere delle sue intenzioni bonarie il titolare di un'azienda di Civitella Casanova, che si occupa della produzione e della distribuzione di uno dei prodotti alimentari abruzzesi più famosi al mondo. Il 64enne, dai modi gentili, ha raccontato di voler promuovere gli arrosticini sul territorio svizzero, di voler creare ad hoc delle pagine social per favorire la diffusione della conoscenza del prodotto e la sua distribuzione e quindi di pubblicizzare la stessa azienda produttrice, ma a quanto sembra era una truffa bella e buona.